Eccoci qua ragazzi, benvenuti. Allora, oggi 500 euro, vediamo se è possibile guadagnare un extra dalle scommesse sportive, tutti i mesi. Parliamo di soldi in più che vi entrano. Allora, semplicemente oggi andremo a vedere con l'aiuto della matematica, con l'aiuto di uno storico estremamente rilevante. Come sapete, a me piace sempre far parlare i numeri, la matematica, i dati, rispetto alle chiacchiere da bar, quelle le lascio ai tanti ciarlatani di questo settore. E quindi oggi andiamo a vedere con lo storico la mano, lo storico del prodotto che mi contraddistingue con l'operatività sul calcio Football Pro 2.0, che è un prodotto dove io opero pre-match e si compone per l'appunto di una parte della mia operatività personale. Ed è un prodotto dove cercheremo di capire com'è possibile guadagnare, dati alla mano, partendo da un capitale di 500 euro, da un budget, capitale è una parola grossa, 500 euro, quindi un budget di 500 euro, una cassa di 500 euro, com'è possibile guadagnare un extra tutti i mesi con l'obiettivo, ragazzi, poi sensibilmente di andare a portare a casa questi profitti per poi vivere di betting, vivere di questa professione. Innanzitutto vi invito a lasciare like al video, ma soprattutto mi interessa che voi diffondiate il verbo del professionismo, quindi iscrivetevi a questo canale YouTube e condividete questi video perché sono molto molto importanti. Andremo a vedere numeri alla mano, cosa vuol dire guadagnare un extra tutti i mesi. Come state vedendo, questo è lo storico di Football Pro. Football Pro 2.0 prevede 100 analisi di mercato. Pre-match Quindi stiamo parlando di operatività estremamente accessibile per chiunque svolga un'altra professione, abbia parecchi impegni durante la giornata, per chi ha da dedicare poco tempo. Praticamente stiamo parlando di denaro regalato. Regalato da un sottoscritto che è capace di individuare le quote sbagliate sul mercato e quindi riesce a prendersi sempre quel vantaggio matematico sul mercato e sui bookmaker. Andiamo a vedere, questo è lo storico del prodotto. Qui, badate bene, questo è lo storico ovviamente di un cliente, di alcuni nostri clienti che ovviamente seguono il prodotto e che hanno la premura di aggiornarlo costantemente perché ovviamente fanno le cose con estrema precisione proprio perché vogliono portare a casa e portano a casa i risultati, i risultati che vedremo fra poco. Questo è lo storico del prodotto. Come vedete questo storico prevede 100 analisi di mercato, anzi non lo vedete, non c'è scritto ma è così, se andate su, anzi ve lo dico io, non c'è bisogno di andare su e-commerce, prevede 100 analisi di mercato. Step 52, quindi praticamente abbiamo da poco superato le 50 analisi, siamo a metà del prodotto. Guardate la percentuale di rendimento, siamo al 14,96% di profitto. Una percentuale incredibile, importante, lo andremo a vedere fra poco con un numero alla mano per farvi capire matematicamente com'è possibile guadagnare un extra con le scommesse e viverci. Qui lasciate stare il budget, il capitale, questo si possiamo definirlo capitale, e lasciate stare lo stake al 2%. Ovviamente alla fine dello storico verrà segnalato lo yield, qui non l'ha segnalato il cliente, quindi adesso non ci interessa, però è importante la quota media 1,81 per tutta l'operazione di mercato, quindi è un prodotto elargito pre-match a quota media 1,81. Allora ragazzi, voi dovete capire una cosa molto semplicemente, dovete capire che il professionismo si fa seguendo particolari competenze sul mercato. Se non avete tempo da impiegare, se non avete possibilità in questo momento di dedicare troppo denaro alle scommesse e volete avere un approccio speculativo per guadagnare centinaia di euro al mese e poi nel breve periodo, nel medio breve periodo, iniziare a creare una vera e propria cassa per impostare il rischio e quindi la gestione del capitale a ritmi sostenibili, allora questo è il video che fa per voi. Se partite da un piccolo budget e volete iniziare a guadagnare un extra, questo è il video che dovete ascoltare attentamente. Quindi noi andiamo sulla calcolatrice dell'interesse composto. Vi porto qua, ovviamente, e vi mostro quello che vuol dire portare a casa una percentuale di un certo tipo con l'interesse composto. Allora ragazzi, torno un attimo indietro, anzi prima apro la calcolatrice, la rimpicciolisco perché magari per voi può essere difficile, visto che si vede poco bene. Io perché mi inizio a invecchiare voglio i tasti giganti, no vabbè, a parte le cazzate. Allora, spostiamoci sullo storico di Football Pro, come vedete una percentuale del 14,96%. Percentuale che adesso andiamo a vedere qui, 14,96 diviso 2, quindi praticamente perché noi avevamo uno stake, quindi praticamente con 50 analisi a stake, scusate ho chiuso la calcolatrice, praticamente con 50 analisi voi vi portate a casa il 7,48%, come abbiamo visto poc'anzi. Rifaccio il calcolo per i meno attenti, quindi erano 14,96 diviso 2, 7,48%. Capite bene che questa è una percentuale molto molto importante, è una percentuale che vi permette di guadagnare un extra da tutti i mesi dalle scommesse sportive, ovviamente affidandovi ad un professionista che comprende il mercato, conosce certe dinamiche degli informatori e che è capace di portarvi a casa risultati come questo. Quindi 14,96%, 7,48% in 52 analisi di mercato, utilizzando ovviamente uno stake fisso. 7,48%. Adesso io vi faccio vedere cosa vuol dire servirsi dell'interesse composto, partendo da un budget di 500€ per andare a guadagnare tutti i mesi un extra con le scommesse. Vi faccio vedere in un anno cosa vuol dire portare a casa un extra tutti i mesi. Ve lo faccio vedere servendomi dell'interesse composto. Qui state vedendo cosa vuol dire avere davanti la calcolatrice dell'interesse composto. Mi servo di questa per rendervi più facile il calcolo e dopo lo andremo a verificare. Allora, servendovi dell'interesse composto, mettendo caso che voi facciate una percentuale, mettiamo caso che voi non utilizzate il prodotto Football Pro 2.0, siete capaci in maniera autonoma di portare a casa all'incirca in un mese il 7,48% dalla vostra operatività sulle scommesse sportive. Ve lo auguro perché andremo a vedere tra poco che sono soldi molto interessanti. Allora, 7,48%. Mettendo caso che voi utilizziate uno stake altamente speculativo su un piccolo budget di 500€, voi vi portate a casa, voi vi andate a portare a casa il 74,8% del vostro capitale tutti i mesi. Quindi, seguendo, ovviamente io faccio sempre l'esempio di Football Pro, che ha portato a casa il 7,48% in un mese, diciamo così, anche se il prodotto non è ancora finito. Quindi, vi vi portate a casa il 74,80% con un approccio speculativo, 10% fisso, stake fisso. Quindi, questo vuol dire che voi tutti i mesi vi portate a casa e vi faccio immediatamente il calcolo, perché facciamo 74,8% per 500, allora, scusate, 74,80, va bene, per 500, diviso 100, sono 374€, voi vi portate a casa 374€, con una percentuale pari al 74,80% di 500€ che abbiamo visto praticamente in questo momento. Quindi, è un extra, a tutti gli effetti è un extra con un approccio altamente speculativo su un budget di 500€. Questa è matematica, signori, questi sono i numeri, i numeri supportati dallo storico di un prodotto, quindi non solo i numeri che faccio io, ok? Ma stavo parlando anche dei numeri che fanno i clienti e lo faccio con uno storico, ovviamente. Adesso, torno sulla calcolatrice, ma soprattutto, torno sull'interesse composto. Partendo da un capitale iniziale di 500€, con, ovviamente, un tasso di interesse, allora, pari al, come abbiamo detto prima, 74,80%. Mettiamo caso che noi teniamo questo rendimento per 12 mesi. Ok? Andiamo a calcolare. Voi capite bene che questa, questa, signori, è il calcolo effettivo di soldi che andresti a guadagnare dopo un anno, partendo da questo piccolo budget, con un approccio altamente speculativo, portando a casa il 74,8% al mese. Praticamente, sarebbe utilizzare Football Pro 2.0, servendosi di Football Pro 2.0, utilizzando uno stake fisso al 10%. Ovviamente, questo è un approccio altamente speculativo, che puoi fare con un budget di 500€ estremamente ridotto. Stiamo parlando di 406.880,75€. Dindi rindini, come direbbe il sottoscritto. Ma andiamo a andare, andiamo a, sì, andiamo a andare, va bene. Andiamo a verificare, mi trovo meglio con la matematica che con l'italiano. Andiamo a verificare quelli che sono i calcoli dell'interesse composto, di questo calcolatore per l'interesse composto. E allora, semplicemente, noi sappiamo che dobbiamo tenere il conto del capitale e di una formula dell'interesse composto. 1 più l'interesse, tra parentesi, tutto elevato al periodo, all'intervallo di tempo. In questo caso noi abbiamo preso 12 mesi. Quindi noi praticamente andiamo a fare, e lo facciamo molto semplicemente, manualmente, andiamo a fare 1 più 0,74, 7,480. Lo eleviamo, attenzione, questa è la calcolatrice standard, prendiamo la calcolatrice scientifica. Quindi rifacciamo il calcolo, quindi 0,748, 1,748, lo andiamo a elevare alla dodicesima e moltiplichiamo il tutto per il nostro capitale iniziale. Quindi, come vedete, 406,880,75 dindirindini, che sono la stessa cosa che trovate qui, signori. Denari sonanti. Questo è l'interesse composto, questo è il servizio della matematica, ma mettiamo il caso che voi volete sicuramente sporvi in maniera minore con un budget di questo tipo, anche se comunque è sempre un piccolo budget, è sempre una piccola cassa. Allora, noi mettiamo caso che voi, prendiamo sempre la famosa percentuale di Football Pro, è il 7,48%, quindi prendiamo caso che voi utilizzate uno stake fisso al 5%, quindi vi portate a casa il 37,4% tutti i mesi dall'operatività, 37,4% per 500 diviso 100 sono, signori, 187 euro al mese, è un extra sostanzialmente dalla vostra opera di scommesso, oppure se vi servire di Football Pro, con questi numeri, dal prodotto Football Pro. andiamo a calcolare questa percentuale sempre su 12 mesi, se è il 37, abbiamo detto, virgola 40%, lo andiamo a calcolare sono 22.636 euro, e 58 centesimi, se vi interessano. In un anno, questo è un approccio speculativo stake fisso al 5%, 37,40% di profitto, come vedete qua, 187 euro i primi mesi, e andando a maturare con l'interesse composto fanno 22.636 euro l'anno, i 58 centesimi ve li regala la matematica. Poi, questo è il rendimento di un prodotto estremamente professionale come Football Pro, con un rischio sostanzialmente ridotto del 5%, appunto, per il 5%, per ogni singola operazione di mercato a stake fisso. E, se volete, non ci credete, andiamo a fare, andiamo a avere una classica, una classica, la classica verifica. Quindi abbiamo detto che era il 37,40%, quindi facciamo 1 più 0 virgola 374, eleviamo il tutto alla 12, ovviamente, l'arco temporale che ci interessa, per 500 e come vedete fa la stessa cifra di prima, 22.636, virgola 58, qui approssimato per eccesso, 57,9, 579, e andando avanti. Quindi, ragazzi, cosa vi devo dire? Questo è il risultato, ma mettiamo caso che voi vogliate avere un approccio meno speculativo, quindi vi andate a prendere il 3%, che è una percentuale assolutamente ragionevole. Questo, ragazzi, è molto importante questo video per tutti voi che lo state guardando. Per chi non lo guarda, è un fesso, ma non lo saprà mai. 3%, 3%, quindi sfarciamo e ritorniamo sempre la stessa cifra. Quindi, prendiamo il 3%, 22,44 tutti i mesi, 22,44 per 500 diviso 100, andiamo a vedere se ho fatto danno, può darsi di sì, no, è corretto, 112 euro un extra tutti i mesi, è sempre più piccolo questo extra, ma andiamo a valutare cosa vuol dire portare a casa un extra di questo tipo, 22,44% in 12 mesi sono 5.676 euro 5.676 euro all'anno partendo da 500 euro con un approccio speculativo. Cosa dovete fare? Semplicemente seguire un prodotto professionale come Football Pro 2.0 se non volete imparare e mettervi sotto con l'operatività ovviamente ci vogliono anni per tirare a casa certe somme e ovviamente certe somme certi risultati certi risultati in termini di profitto di percentuale intendo perché ovviamente se vi servite di Football Pro lo potete fare potete fare circa 6.000 euro più di 5.000 euro insomma in un anno questi sono i numeri quindi in termini matematici espressi e confermati da uno storico che potete fare servendovi di Football Pro 2.0 e lo potete fare pre-match intanto come vedete qualche volta mi distraggo perché sto seguendo Baudista Agut e Sinner a Madrid che in questo momento sono in live nel momento in cui sto realizzando questo video quindi ragazzi questo è con 500 euro di budget quindi quando mi chiamate o mi scrivete mi chiamate non mi chiamate ma mi scrivete o mi inviate dei vocali e mi dite guarda se io ho solo 500 euro e un budget con cui potrei partire dovete prestare attenzione a questi numeri a queste cifre se partite da 500 euro col 3% vi portate a casa questo risultato qui questo risultato operativo e io ribadisco qui stiamo parlando di numeri fatti a metà regime perché praticamente stiamo a metà dell'abbonamento delle 100 analisi di Football Pro per questo io mi sono tenuto cauto perché il 7% 8% è una percentuale che solitamente portiamo a casa e che quindi ci sono i mesi in cui porti a casa Football Pro può portare a casa il 18% il 20% dei mesi in cui può portare a casa una percentuale minore del 7% quindi solitamente il 7% al mese è una percentuale assolutamente ragionevole qui il 7,48% ma vi ripeto questo mese ancora questo abbonamento e questi 100 analisi di mercato ancora non abbiamo appena superato la metà e manca ancora un'altra metà per la fine del prodotto quindi mancano ancora 48 analisi altamente professionali però qualcuno mi chiede pure Cristian ma se io ho un budget più piccolo oppure io Cristian devo acquistare Football Pro 2.0 è capitato alcune volte e mi dite ma io guarda ho 500 apri in totale vorrei vorrei speculare vorrei guadagnare dalle scommesse un extra cosa devo fare perché io sai il tuo prodotto costa tot quindi mi rivarrebbero 400 più di 400 euro considerando il costo del tuo prodotto quindi avrei 400 euro da capitale iniziale e mi porta a casa e mi vorrei portare a casa un extra allora io vi dico tornando sempre ai rendimenti di prima ve lo faccio vedere 74.8 calcoliamo sono 325.000 euro in un anno in 12 mesi questo è quindi se voi avete 400 euro avete il problema perché partite con 100 euro in meno queste sono le cifre se voi ovviamente tenete uno stake fisso più basso quindi faccio sempre l'esempio di prima 37,40% sono 18.000 euro in un anno che comunque in questo periodo non vi fanno male capite bene capite bene e capite bene anche quanto un professionista guadagna dalla propria opera sui mercati poi 3% stake fisso 3% 22,44% calcoliamo sono 4540 e come al solito gli 88 centesimi ve li regalo alla matematica quindi capite bene che come dico sempre rinviare un investimento che sia il fatto che voi dobbiate investire su voi stessi sulla vostra formazione tra l'altro sto scrivendo un libro sulle value bet per farvi capire bene cosa vuol dire operare sulle value bet e come individuarle a mercato e sto parlando di un prodotto sto parlando di un percorso formativo di un certo tipo quindi se voi volete iniziare a investire sulla vostra formazione personale o volete iniziare a studiare i mercati perché volete iniziare a portare a casa anche all'inizio l'1-2% al mese tanto tutto quello che portate in profitto in guadagno è guadagno quindi tenetevelo stretto allora l'ottimo percorso che dovete fare è quello anzi il primo il primo il primo concetto che dovete tenere a mente è quello di iniziare da subito cioè voi non dovete perdere tempo dovete subito mettervi al mercato iniziare a studiare perché questa è una professione che vi può portare grosse soddisfazioni e grossi guadagni lo dice uno che a passati periodi in cui portava a casa delle piccole percentuali e che guadagnava guadagnava e man mano accumulava e questo è il concetto quindi voi l'extra tutti i mesi ve lo potete portare a casa ma se volete fare volete alzare il livello potete portare a casa cifre enormi cifre enormi allo stesso modo se non avete tempo però volete vedere come opera un professionista volete imparare a capire come un professionista studia il mercato delle informazioni di cui si serve per individuare e battere il mercato e volete iniziare a guadagnare perché avete poco tempo ma volete iniziare a capire a guadagnare e guadagnare quel famoso extra di cui vi parlo in questo video allora voi dovete affidarvi un prodotto altamente professionale con storici alla mano quale footballpro 2.0 tenuto dal sottoscritto che è un prodotto professionale dove pochi minuti al giorno con tantissimi ore di anticipo passate operazioni che sono per il 9 maggio giorni e giorni fa parliamo del 3 maggio quindi ho pensato operazioni con 6 giorni di anticipo quindi avete veramente tutto il tempo del mondo di andare a prendere queste operazioni di mercato ecco con pochi un paio di minuti massimo al giorno puntando investendo un piccolo budget di 500 euro vi potete togliere queste soddisfazioni all'arco temporale di un anno come state vedendo adesso ma vi potete sempre portare a casa un extra tutti i mesi che è importante e dipende tanto qui bordello tra potistagut e Isner proprio match tesissimo e all'ultimo respiro con grandi colpi e anche qualche colpo fortunato da parte di Isner comunque nastro e palla di là comunque ragazzi questi sono prodotti professionali questo è il professionismo vi ho fatto vedere matematicamente storico la mano con tutti i numeri e i dati di questo mondo cosa vuol dire portare a casa una percentuale importante indipendentemente dai rendimenti di football pro se voi vi portate a casa il 7,48% con certi tipi di per un atteggiamento speculativo vi portate a casa delle cifre enormi ovviamente cosa vi consiglio di fare tornando al discorso di 500 euro adesso mi è venuto in mente tanto match point allora cosa dovete fare se voi iniziate da un budget di 500 euro di 400 euro ma questo budget è qui per voi l'avete investito i primi due mesi avete visto che è cresciuto una cifra e dite porca troia ma io non voglio non voglio rischiare di buttarlo via perché è un approccio veramente speculativo 10% è rischioso allora che cosa fate abbassate la percentuale ma nel frattempo voi siete portati a casa un budget una cassa di 1000 2000 euro 2-3000 euro quindi con 2-3000 euro potete abbassare il budget e portarvi sempre a casa tutti i mesi quella extra mensile diminuendo sostanzialmente il rischio e avendo la possibilità di farlo nel tempo di far maturare quei profitti nel tempo e quindi di dormire su 7 guanciali e di poter di poter accumulare un capitale come ho fatto io tanti anni fa che poi supera i 10-20-30.000 euro e poi da lì veramente potete iniziare tranquillamente a guadagnare uno stipendio con le scommesse ovviamente sempre con delle vostre competenze personali oppure affidandomi a un professionista potete guadagnare uno stipendio con le scommesse e quindi disporre di una entrata enorme tutti i mesi che è quasi pari a uno stipendio ed è qui ritorno felicemente allo storico vedete come un budget di 100.000 sì di 100 scusate 10.000 euro con uno stake fisso al 2% quindi praticamente sarebbe come impostare un budget di 500 euro in maniera speculativa impostandone in maniera speculativa e tenendo questa speculazione per 5-6 mesi accumulando un capitale di 100 di 10.000 euro e in questo modo voi vi portate a casa vi portate a casa sicuramente uno stipendio come vedete qui quindi dopo con uno stake 2% fisso che è un'ottima percentuale una percentuale che vi fa dormire sereni e tranquilli e con cui si può approcciare seriamente all'investimento delle scommesse sportive vi portate a casa tranquillamente tutti i mesi uno stipendio di 1500 euro senza rischiare troppo ma avete la garanzia di avere dei soldi veramente d'oro d'oro è una professione veramente veramente spettacolare bella entusiasmante viva che vi rende vivi e vi rallegra le giornate e qualche volta e qualche volta se operate in maniera autonoma mi fa anche un po' incazzare però questo fa parte del mestiere e forse fa parte anche della vita ma attenzione perché qui ha vinto John Isner ma è incredibile comunque ragazzi intanto mi guardo i prossimi match ma forse sì 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 abbiamo Perzizipas che sta per iniziare e vi saluto vi rinvio ai prossimi video mi raccomando diffondete il verbo del professionismo e fate tesoro di quelle cose di queste cose che vi dico io perché perché non ve le dice nessuno buona vita ciao